ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi secondo video di sneak peek abbiamo tantissime cose da dire pure per questo video perché le info sono una marea ragazzi vi giuro e direi partire subito con la prima che vedete qua allora è stata aggiunta questa cosa solo per i nuovi player e come nuovo player bisogna vedere un attimo cosa verrà inteso ma penso comunque per quelle persone che hanno installato bro stars nell'ultimo anno però comunque non dovrebbe essere per tutti solo per i nuovi player e detto questo dal frame qua preso direttamente dal bro talk vedete questo calendario se così si può chiamare in cui ci sono ogni giorno le ricompenso ora vi vado a fare l'elenco delle varie ricompense che ci sono i giocatori devono accedere ogni giorno per richiedere le ricompense saltare un giorno chiude il calendario perciò ragazzi attenzione perché dovrete accedere almeno una volta al giorno ma comunque è una roba super super fattibile partiamo dal giorno 0 in cui c'è la skin di shelly bandita giorno 1 potete scegliere tra daryl o penny perciò un brawler super raro il giorno 2 upgrade a power 5 giorno 3 una reazione il giorno 4 upgrade a power 7 giorno 5 la skin o football derryl o bunny penny anche qua potrete scegliere giorno 6 2 gadget potrete scegliere tra uno e l'altro il giorno 7 una reazione comune il giorno 8 upgrade a power 8 il giorno 9 reazione comune il giorno 10 upgrade a power 9 il giorno 11 due reazioni rare il giorno 12 un'abilità stellare a scelta fra quelle che ci saranno il giorno 13 due reazioni ma attenzione epiche il giorno 14 un brawler epico tra edgar e griff e se qualcuno di voi ha già una delle ricompense che ci sono nel calendario vi verrà data una mega cassa direi che per il calendario è tutto possiamo passare al re roll delle missioni argomento molto molto interessante allora come avete visto durante il brawl talk è stata mostrata questa nuova funzione ovvero il re roll delle missioni cosa vuol dire che finalmente sarà disponibile re rollare le missioni del brawl pass che ci vengono fornite ci tengo a dirvi che senza brawl pass avrete un re roll a disposizione ogni settimana vi ricordo che poi ogni settimana si riazzera il roll e potrete rifarlo un'altra volta invece chi acquisterà il brawl pass e mi vanno se l'acquistate i codici player d nello shop come vedete sotto i re roll settimanali passeranno da 1 a 3 perciò comunque molto interessante sono state cambiate anche le missioni perché ne sono state aggiunte di nuove adesso ci sono alcune nuovi tipi di missioni che vi andrò a elencare poi facciamo una rapida scorsa anche tra quelle che ho a disposizione io ma vi vado a fare l'elenco delle nuove missioni per dominio c'è rimani in una zona per x secondi che poi ovviamente varierà in base alla grandezza della missione per rapina c'è infliggi x danni alla cassaforte molto carina ricercati termina x partite con 4 più stelle a raffa gemme trasporta tre o più gemme per x secondi capo sopravvivi a x round football passa la palla x volte per showdown raccogli x cubi di energia e ne andiamo a vedere adesso per esempio sul gemma c'è protegge almeno 3 gemme per 10 secondi nella raffa gemme come vedete ci sono anche le missioni per foot di passa la palla 15 volte poi abbiamo le missioni di showdown 25 cubi di energia ma insomma più o meno ve le sono già andate a dire a voce ora ci guardiamo al volo come la schermata di roll in questo caso come vedete ho cliccato in alto a destra e ho un re-roll disponibile andiamo a re-rollare per esempio quella di showdown andiamo un po eccolo qua c'è stato il re-roll detto questo ora ragazzi andiamo a un argomento un pochino più succoso vi voglio mostrare la nuova modalità bot drop che è stata annunciata sempre ovviamente nel brawl talk eccoci dentro una partita di bot drop come vedete ne abbiamo provata una allora vi sponeranno dei robot sulla mappa che voi dovrete andare ad uccidere vi sponeranno dei bulloni che dovrete prendere il primo team vi ricordo che va a ottenere otto bulloni vince la partita ovviamente come per annientamento avrete anche il il counter in alto a sinistra infatti lo potete vedere siamo a due andiamo un po di portarci a casa questa partita anche se quella jesse è veramente cattivissima vi ricordo che come era stato detto la persona più vicina che attacca il robot viene targettata da da esso vai pinguino ok un altro ci manca l'ultimo comunque la spiegazione della mod è molto semplice potenzialmente sembrerebbe una mod abbastanza veloce ovviamente se un team andrà a dominare non ci dovrebbe mettere molto vi ricordo se non ho visto male due minuti a disposizione eccolo qua ottavo bullone appena nell'istante si viene consegnato l'ottavo ci va a dare la vittoria direi mod semplicissima da giocare e potrebbe avere un ottimo potenziale ovviamente la dovremo vedere poi come sarà il suo comportamento in ladder perché dovremo vedere le compie che verranno giocate e le varie mappe che verranno messe a disposizione ok dopo la nuova mod vi do qualche info sulle mappe che verranno tolte e le mappe che verranno aggiunte allora partiamo da dominio sono rimosse ai lato opposti e campo aperto e sono aggiunte campo eliso e zona aperta che è questa nuova mappa per ko invece sono rimosse gran splash e sorgente di confine e sono aggiunte nuova prospettiva e il punto estratto per raffagemme invece sono state rimosse trattoriere imbalzante e incrocio strategico sono state aggiunte valle insidiosa e trattoria sotterranea per foot rimosse brawl field e centrocampo di fuoco sono state aggiunte gioco di sponda goleata e ping pong che sarà disponibile solo in amichevole per i cercati invece sono state rimosse pronti al pericolo e recinto di tori e sono state aggiunte attenzione ragazzi ruolo i tamburi canal grande prateria dei serpenti io non dico altro due grandissimi ritorni per rapina rimosse ponte a mio malincuore labirinto di gemme e cava aggiunte canyon boom boom grandissimo intorno anche questo capottonante e vietato toccare per sopravvivenza rimosse dritti all'obitorio labirinto e sono state aggiunte pianura volante e gola erbosa ora ragazzi come chicca extra vi vado a provare la nuova il nuovo tipologia di ostacolo su foot vedrete quando sarò in game che mappa avrò scelto per voi eccoci ragazzi nella mappa penso più strana che ci sarà poi su foot vi ricordo che questa mappa si chiama ping pong e sarà disponibile solo in amichevole e vi faccio subito capire perché sarà disponibile solo in amichevole ragazzi avete visto quanto rimbalzano in questa nuova pedana i respingitori oltretutto è finito la palla giusto sul robot cioè è giusto un ping pong ma io l'avrei chiamata di più flipper anche perché questo è e oltretutto non capite mai dove la palla andrà a finire perché ci sono tante possibilità di rimbalzo e oltretutto questa palla mi sta scappando con la mia palla sarà sicuramente una mappa divertentissima da poter provare e ci divertiremo tanto anche perché qua un passaggio ragazzi vi potrebbe costar caro anche perché la palla potrebbe andare a finire un po un po ovunque e guardate sarebbe continuata ad andare detto questo io direi di passare alle nuove reazioni e poi ragazzi finalmente vi andrò a mostrare i cambiamenti di power league così per il conto adesso una carrellata dei pin animati e non che usciranno per le varie skin godeteveli questo ragazzi vi ricordo sarà il pin come ricompensa delle prossime finali mensili che saranno il 7 maggio alle 16 ovviamente vi ricordo che se guarderete queste finali mensili potrete accumulare punti e ovviamente se sarete rimasti indietro per prendere i due pin passati tranquilli che con queste finali potrete continuare a guadagnare punti e arrivare a prendere i due pin passati più questo nuovo vi ricordo però che per far questo dovrete vedere più finali mensili di conseguenza state attenti controllate i social di supercell e di noi commentatori io e ferre perché vi daremo magari le info per vedere anche le altre finali mensili che ci saranno allora prima di partire con tutta la nuova schermata no di power league perché ci saranno i sei band a disposizione vi vado a dire la rotazione che sarà fatta per lega delle stelle e dei club su ricercati saranno a disposizione piana delle stelle canal grande e prateria dei serpenti su football super spiaggia camp brawl e campetto incolto a raffagemme miniera rocciatura area relax e arco doppio rapina battigio ostionante santuario e vietato toccare che vi ricordo una delle nuove mappe per dominio ring di fuoco distesa degli scalafaggi e zona aperta anche questa nuova mappa per ko infine rupe di bell burrone di braccio d'oro e il punto esatto che anche questa è una nuova mappa per ultima cosa ragazzi andremo a parlare di rega delle stelle come vedete qua vi ho preso un frame del brawl talk in cui si vedono i tre ban fatti ogni giocatore potrà bannare un brawler ovviamente e tutti i componenti del vostro team dovranno bannare un brawler diverso anche perché una volta che voi avrete bannato un brawler i vostri compagni squadra non potranno bannare di conseguenza quel brawler lì per questo motivo ci saranno un minimo di tre ban e un massimo ovviamente di sei questo dipenderà poi dai vostri avversari vi do un altro paio di tips vincere due partite senza perderne dovrebbe dare più progressi rispetto a prima però questa cosa si applicherà solo a le persone che saranno diamante 3 in giù da mito 1 in su non cambierà niente sarà come è stato fino adesso poi la penalità per aver perso due partite di fila è stata rimossa questo vale per tutti perciò qualsiasi rank per la questione dei nuovi ban ovviamente i ban aggiuntivi degli account nuovi che magari qualcuno si metteva a sperimentare magari master con account un po particolari ora ogni giocatore dovrà possedere almeno 12 brawler oltre ad aver sboccato la lega delle stelle ovviamente nel cammino dei trofei questa a causa dei ban aumentati perché si possono avere un massimo di sei brawler bannati di conseguenza se no non si avrebbe scelta è stata aggiunta anche un'altra cosa se nessun brawler viene scelto alla fine del timer un brawler casuale verrà bannato detto questo ragazzi per il secondo giorno di sneak peek è tutto come vedete un sacco un sacco di info spero di essere stato più chiaro possibile in caso comunque se avete qualche dubbio scrivetemi pure nei commenti io cercherò di rispondere a tutti e come ultima cosa ovviamente vi ricordo un bel like un bel commento e codice player di sempre nello shop ciao ragazzi ciao a tutti